L'asfalto bagnato ma anche il tracciato che in alcuni punti resta molto pericoloso. Ancora un incidente sulla tangenziale est di Campobasso, nelle ore di punta diventata ormai trafficatissima, in particolare negli orari di apertura e di chiusura di scuole e uffici. Dunque questa mattina, poco dopo le 7.30, una Fiat Punto ha imboccato la curva in prossimità dello svincolo di San Giovanni dei Gelsi e ha perso aderenza con l'asfalto. Alla guida dell'auto una donna di 45 anni che aveva allacciate le cinture di sicurezza questa circostanza è l'airbag. Quasi certamente le hanno evitato guai peggiori perché quando la macchina è andata via per la tangente non è riuscita a controllarla e si è scontrata con questo camioncino che arrivava in direzione contraria. Dopo l'urto violento a tal punto che il semiasse dell'autocarro ha ceduto e il mezzo si è come inginocchiato su se stesso, la Punto della donna ha urtato il guardrail e si è fermata contro la barriera. Le auto che seguivano hanno evitato sia la Fiat che il camioncino. La donna e l'uomo vittime dello scontro sono stati trasportati in ospedale. Più seri i traumi riportati dalla 45enne se l'è invece cavata con qualche contusione l'autotrasportatore. Sulla tangenziale dove la polizia stradale e i carabinieri hanno regolato il traffico si è formata una lunga colonna e per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi sulla strada si è proceduto per un paio d'ore a senso unico alternato. Quel punto resta uno dei più pericolosi dell'intero tracciato, specie quando piove. Nessuno fino a oggi ha cercato soluzioni per modificarlo, renderlo più sicuro fino al prossimo incidente.